un violento temporale si è abbattuto su alba e su una vasta area che comprende l'angheroero estendendosi tra canale montale intense precipitazioni hanno causato allagamenti rapidi nelle zone colpite mentre la grandine ha danneggiato veicoli e culture secondo quanto riportato dai media locali e dalle immagini condivise sui social i 30 minuti di pioggia sono stati accompagnati da raffiche di vento e chicchi di grandine descritti simili alle dimensioni di una nocciola